Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz, io sono Riccardo Zago e oggi voglio parlare di un titolo azionario, Banca IFIS. È un titolo che all'interno del sito viene affrontato molte volte, oggi però non voglio parlare di investimenti, anche se la mia opinione è comunque molto positiva su Banca IFIS, ma di una possibile occasione di trading. E allora andiamo a vedere qual è questa occasione, ho scritto un articolo qui sul sito se volete leggerlo, insomma c'è scritto tutto per filo e per segno. Andiamo a vedere il grafico partendo intanto col dire che ho aggiunto un indicatore al grafico che è l'indicatore Icimoku. Più che un indicatore a mio avviso è un sistema di trading completo, detto questo però andiamo a concentrarci sulle informazioni che può darci. In questo caso notiamo come, ricordiamoci che siamo su un time frame mensile, quindi parto da un'analisi del time frame mensile, quindi molto ampia. Notiamo come nel mese di agosto il prezzo è sceso molto, precisamente in chiusura del 24%, quindi il titolo ha veramente perso molto, però si è appoggiato su una zona tecnica importante, la zona di venti. Questa zona l'indicatore Icimoku ce l'assegnava in maniera perfetta, ebbene guardate qui. La nuvola, quindi la Kumo, ha funzionato molto, molto bene da supporto, quindi la SSA. Bellissimo questo rimbalzo, nel mese di settembre sta reagendo bene Banca IFIS con un più 18%, ovviamente dai minimi dell'apertura. Interessante anche a livello tecnico, poi se andiamo a vedere indietro, è una buonissima fascia di prezzo, quella che va da 19,78 a 20,40, e il prezzo quindi sta salendo. Intanto abbiamo questa informazione, e cioè che il supporto in area venti è molto importante. Se ci spostiamo sul settimanale, l'unica informazione che può darci in più il grafico è che a 27,28 troviamo una zona di resistenza molto importante, e di conseguenza, se il titolo dovesse continuare a salire, fare molta attenzione, se magari siete già in posizione, a livello di 27,20,28, perché da lì i prezzi potrebbero rimbalzare e ritornare verso il basso, proprio come hanno fatto nel periodo di giugno-luglio di quest'anno, quindi 2018. Andiamo sul time frame giornaliero e che cosa notiamo? Beh, sul time frame giornaliero sono andato a tracciare una trend line che parte dalla chiusura dell'11 ottobre e poi passa per la chiusura del 27 di luglio. All'interno di questo mega trend ribassista notiamo come c'era stata anche una falsa rottura, perché esistono anche le false rotture nel trading, il prezzo però ce l'aveva indicata, perché questa era una doji il 7 maggio, quindi non era sicuramente una rottura confermata con una conformazione candlestick di questo genere. Infatti poi i prezzi sono scesi, sono scesi molto, la trend line però è stata invece ritestata con successo il 19 luglio, ma anche il 27 di luglio. Tutto questo ovviamente accompagnato dall'indicatore Ichimoku, che con le sue nuvole riesce a darci ottime, ottime informazioni. Proprio queste informazioni ce le sta dando in questo momento, guardate dove ci troviamo. Stiamo ritestando nuovamente la trend line, nella giornata di lunedì c'è stata una candela di assoluta indecisione, pausa, barra indecisione. Ci troviamo su una resistenza statica creata dal gap di prezzo che si è creato da venerdì 3 agosto a lunedì 6 agosto, quindi resistenza statica, resistenza dinamica. Molto vicino abbiamo la parte alta della nuvola, che come abbiamo visto in precedenza, qui può funzionare bene, eccolo qui, da resistenza. E quindi i prezzi potrebbero scendere. Io sono posizionato di lungo termine al rialzo, però se qualcuno vuole provare un trading di breve, questa è sicuramente un'occasione interessante. Target price, zona 20, barra 21, sicuramente un target interessante, ovviamente stop loss alla chiusura dei prezzi di sopra di 24,37, perché una volta rotto questo livello, a mio avviso, siamo proiettati a 27,20, barra 28, resistenza di cui parlavamo precedentemente. Ovviamente questo è tutto soggettivo, in base alla metodologia operativa di ogni trader. Io personalmente non mi posiziono al ribasso, anche se la trovo molto interessante, perché sono in realtà già esposto da parecchio tempo al rialzo in ottica di investimento. Ma comunque a mio avviso rimane un'ottima occasione per provare a fare un po' di trading. Quindi occasioni sia al rialzo che al ribasso, per i più aggressivi anche al ribasso, per i più conservativi al rialzo, però bisogna avere un po' di pazienza. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate dei commenti qui sotto se avete anche voi qualche idea su Banca IFIS. Con questo io vi ringrazio, vi saluto, auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.